Scriviamo noi le nostre storie. Dov'è Richard? Vorrei parlare con lui. Sono qui! Eccomi. Sono io, l'unico e il solo signor Richard Montagnese. L'uomo che ha contribuito a dare al mondo lo snack più popolare della storia. Sei pronto? È ovvio. Più che pronto. Ok, ok, forse è andata più così. Piccante? Sì. È grazie a questo che sono qui. Caro Dio, perdonami. La gang, le droghe, le autorubate. Che noia, amico. Diamoci una mossa. Ehi, sta pregando, pendejo. Continua, amore. Sono partito davvero dal basso. Posso non avere un diploma, ma ho un P.A.D. Povero, affamato e determinato. Ok, credo che sarai uno parecchio strano. Cosa è successo? Licenziamenti. Parecchi. La fritolei non ha abbastanza ordini per tenere aperta la fabbrica. Chi mangerebbe curreggi? Quella signora. Che c'è? Brucia. Smetti di mangiarlo. No, mi piace. È piccante buono. Cercavo una risposta. Ed era lì. L'avevo sempre avuta davanti agli occhi. Ho avuto un'idea. È uno snack piccante. Cambierà tutto. Salverà la nostra fabbrica. E sei un osserviente. Ok, un momento. Pensa al prossimo passo. Di, il mercato ispanico non sarà più ignorato. Il mercato ispanico non sarà più ignorato. Bravo, ma con la tua voce. Perché continuiamo a sprecare tempo per le idee folli di quell'inserviente? A quelli come noi non capitano occasioni così. Vedi quel ragazzo là? Io vedo un fico. Un montagnese. Io sono montagnese. Sei montagnese. Vai lì e fatti valere. Vogliamo sapere che noi contiamo per voi. Se ci fosse un prodotto fatto apposta per noi, diremmo... Prendetevi i nostri soldi, cavrozzi. Ho un po' esagerato nell'ultima parte, ma... Ah, ah, è piccante. Piccante buono o cattivo? È piccante buono. Piccante buono o cattivo.